Stella Perrone, docente di matematica e di informatica da 28 anni in l'Istituto Professionale di Asti, Castigliano. Il mio ruolo è stato quello di dimostrare come le tecnologie possano essere uno strumento per appassionare e motivare gli studenti, ma in particolare in un mondo femminile, in un mondo diciamo a loro un pochettino precluso, fino adesso in un mondo che è sconosciuto, in un mondo lavorativo nel quale loro si buttano con difficoltà. E devo dire che anche osservando la giornata di oggi mi sento di dire un feedback, ho portato 50 studentesse, si sono entusiasmati a quello che hanno sentito, quindi forse eventi come questo, il fatto di farli venire a vedere di persona quali sono, qual è il mondo delle tecnologie, quali sono le opportunità di lavoro futuro per loro, far vedere che è un ambiente affascinante, che non vuol dire solo tecnicismo allo stato puro, non è questo, ecco forse funziona perché ne sono uscite con gli occhi lucidi di gioia e questo per me è già un successo. Grazie a tutti!